Buonasera! Allora, una curiosità, una curiosità. Quanti di voi hanno un gatto a casa? Alzate la mano. Che razza è il tuo gatto? No, scusate, europeo non vuol dire un cazzo sotto il profilo scientifico. No, scusate, no, siamo in se sai, cadavere caucasico europeo. Chiamalo questo vero nome. Un gatto come? B-b-b-b-b-b-bastardo. È figlio di padre ignoto, probabilmente il papà è uno di quei gatti randaggi cazzutissimi con i colli alla Mike Tyson, senza un occhio, con un ricco mozzato, che vanno in giro fierissimi, capito? Che trombano più di Mick Jagger. Vuoi le coccole? Vuoi dal gatto certosino della vecchia del terzo piano, se vuoi le coccole? Vedete, la natura non è fatta soltanto di aspetti piacevoli e confortanti. Non siamo in un film di Walt Disney. Ad esempio, parole come rispetto e reverenza nei confronti degli esemplari più anziani nel mondo animale non sono mai esistiti. Prendiamo un animale che piace a tutti, a grandi e piccini, le marmotte. Vi piacciono le marmotte, no? Con quei culoni grossi come Valeria Marini. Ci fanno tanta tenerezza quando d'estate le vediamo uscire allo scoperto in montagna su quei lastroni di pietra che si mettono a fare i richiami. Dico... E l'altra? E l'altra? Sono geniali, no? Così le acule dall'alto li arpionano anche a mosca cieca, ok? Peccato però che quando torna l'inverno, al momento giusto, sapete cosa fanno le marmotte giovani e forti? Fottono la tana alle marmotte vecchie e macilente. Così quando il povero nonno marmotte, tutto claudicante, fa per tornare a casa, infira la chiave nella toppa e vede che non gira, lui dice Oh, che sbadato, mi sono di nuovo sbagliato, ho preso il mazzo di chiavi dell'altra casa. Fortuna che in casa ci sono i miei nipotini che certamente mi apriranno. Sapete cosa fanno i nipotini marmotte? E gli fanno succa dallo spioncino al nonnino. Forse è per questo, forse è per questo, che io non vedo l'ora di diventare anziano per poter vendicare il nonno marmotta, sì. Perché io ad anziano farò leva sui sensi di colpa, sulla sensibilità dei miei figli, su tutte quelle piccole fragilità che avrò scientemente alimentato per tutta la loro vita, per potermi permettere una serie di meritatissimi capricci senili che in confronto a quelli di una donna in gravinazza sono un brufolo nel culo, ok? Tipo svegliarmi nel cuore della notte, ubiaccarmi a tuono e schiacciare freneticamente il salvavita Beghelli collegato ai loro cellulari. E quando li vedrò entrare in casa tutti traffelati dire loro Oh, mi dispiace, avevo voglia di una coppa di fragole con gelato. A gennaio. Cioè io non vedo l'ora di diventare anziano per poter diventare un nonno e potermi permettere con i miei nipotini tutto quello che non mi sono mai potuto permettere con i miei figli. Tipo se il papà farà tantissimi sacrifici economici per pagarli il dentista e il nonnino gli regalerà le caramelle al mu, quelle che si attaccano ai molari che per togliere si portano via le otturazioni. Io sono però anche convinto che purtroppo la terza età non sarà tutta rose e fiori. Sono convinto che dovrò fare conti come una serie di traumi. Ad esempio, una volta scolinati i settanta, purtroppo mia moglie, crostatina, sarà ancora viva e vegeta. E in perfetta salute. Vi giuro che questa prospettiva mi atterrisce peggio di qualsiasi malattia. Immaginatevi che cosa potrà essere mia moglie fra trent'anni. Ogni volta che faccio questi incubi vengo immediatamente proiettato nel mondo di guerre stellari. Perché io mi immagino sempre come un umile soldato dell'impero e lei me la vedo come un cavaliere gedi che produggerà il lato scuro della forza molto meglio di Darth Fener. Grazie a tutti.